Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parleremo di webcam e nello specifico andremo a recensire questa webcam della iMIT modello C980 Pro. Una webcam di tutto rispetto, almeno da quello che riportano sulla carta, poiché questa webcam ha una risoluzione massima di 1080p con 30 fotogrammi al secondo, quindi dovrebbe garantire una fluidità di immagine abbastanza buona, ma soprattutto ha due altoparlanti frontali, ha quattro microfoni, ha un sacco di caratteristiche interessanti. Questo modello si collega tramite cavo alla presa USB del nostro PC, sicuramente sarà adatta a tutti coloro che praticano questo lavoro agile, questo smart working che è stato introdotto in questi due anni di pandemia. Per chi pratica videoconferenze, per chi studia online, come mio figlio Samuele che si sta per lavorare in ingegneria meccanica e quindi spesso e volentieri hanno delle lezioni online. Detto questo, andiamo a vedere subito l'unboxing di questa webcam, come funziona, come si collega, come si vede, come si sente, se si può utilizzare sia sul PC che sul tablet. Insomma, andremo a vedere i vari utilizzi che si possono fare con questa E-MIT C980 PRO. il libretto di istruzioni con lingua anche in italiano, dove troviamo come funziona, come si collega, come configurarla ed altro. Quindi su questo siamo a posto. Poi abbiamo una pratica sacca per poter trasportare la webcam, poi abbiamo la nostra webcam e il filo per collegare la stessa al PC tramite USB abbastanza lungo e il gancio per poterla fissare sui vari monitor. E in più abbiamo questo copri obiettivo, legato alla webcam, con funzionalità calamitata, quindi basta appoggiarlo e questo si va a sistemare. Ma secondo me questo lascia il tempo che trova, però comunque c'è anche questo. Stop! Questo è il contenuto. La prima cosa, andiamo a posizionare la webcam. Ok. Poi andiamo a collegare il cavetto USB al nostro computer. Allora a questo punto, una volta che abbiamo posizionato la webcam e inserita la presa USB al nostro PC, in questo caso parliamo di Windows 11, andiamo a vedere se è stata rilevata correttamente dal pannello di controllo e impostazioni audio. Quindi vedete qua sopra? Eccola qui. HD Webcam Emit C980 Pro. Clicchiamo su questa opzione e andiamo a fare proprietà. e da qui ci impostiamo i livelli del volume, quindi 90, 80, poi ve lo regolate in base a come preferite il suono. Quindi mettiamolo intorno agli 80, poi qui possiamo impostare i canali di 16 bit, 4000 e 48000 Hz o qualità DVD. Come da qui facciamo prova e emette il suono dai due speaker, dai due altoparlanti. Sentite? Quindi è stata configurata correttamente. Poi una volta che abbiamo configurato gli altoparlanti andiamo a configurare il microfono. quindi andiamo su registrazione e andiamo a vedere proprietà. Qui abbiamo sempre i livelli più 6db. Allora andiamo a vedere. Mettiamo meeting. Eccola qua. Webcam Emit C590 e confermiamo con applica. Applichiamo e diamo OK. Quindi il dispositivo comunque è configurato. Allora una volta che abbiamo installato e configurato la nostra webcam, possiamo andare a tarare la stessa prima di effettuare una videoconferenza per vedere se funziona perfettamente. Per chi ha Windows 10 o Windows 11 sulla barra di ricerca, qua sotto, vedete c'è cerca, e possiamo scrivere fotocamera. E ci dà questa applicazione. Cliccando su questa applicazione ci va ad aprire, vedete, la possibilità, la possibilità di poter configurare la nostra webcam che abbiamo installato. Aspettate che l'abbasso un pochino. E da qui possiamo andare a vedere come sarà il risultato per chi ci andrà a vedere dall'altra parte. Possiamo mettere anche a schermo intero questa applicazione. Ovviamente più si ingrandisce, più va a sgranare la qualità dell'immagine. Questa applicazione è configurabile anche da questo pulsantino. Qualità video 1080p 16.9 x 30 fps. Sono le 15.37, oggi è il 16 dicembre. Quindi già sta facendo buio e io sto inquadrandomi solo con la circolina della luce. Vedete, se io spengo, così praticamente sono al buio. Quindi c'è solo la luce alle mie spalle della finestra aperta. La luminosità adesso all'interno di questa camera è praticamente molto, molto bassa. Devo dire, non male. Questa applicazione fotocamera ha anche la possibilità di registrare dei filmati. Quindi una volta installata questa webcam della IMIT possiamo registrare un filmato da mandare ai nostri cari. E visto che siamo sotto le feste, quale cosa migliore mandare dei video messaggi alle persone che amiamo di più. Per fare ciò basta indicarci questa icona, acquisisci video e buone feste a tutti voi e un sereno anno nuovo. Da Francesco, bacioni a tutti. Ok, questo praticamente è il messaggio che potremo poi mandare tramite mail, tramite whatsapp, poiché questa applicazione va a salvare il filmato in MP4. Vedete? Questo è quello che abbiamo appena fatto. Ci tenevo a sottolineare questa cosetta. Alla fine, ragazzi, ho capito qual era l'utilità di questo copio obiettivo. Se dobbiamo interrompere un attimo la comunicazione, quindi lasciare attiva la webcam e non inquadrarci, possiamo andare a coprire l'obiettivo. La funzione di questo tappo è questa, non è quella di proteggere l'obiettivo. Un'altra cosa, quando la webcam è in funzione, si accende questo led blu. Ci dice che la webcam è attiva. Allora, adesso andiamo a fare il test degli altoparlanti di questa webcam. Vi faccio sentire prima un breve pezzo audio di un mio filmato che ho pubblicato su YouTube con gli altoparlanti del monitor dell'Asus. E poi andremo a collegare la presa USB della webcam e andrò a riprodurre lo stesso pezzo di filmato con gli altoparlanti di questa webcam. Quindi vediamo la differenza. è vista. Ehi c***o, guidami a ponte di legno, perfetto, a ponte di legno, a poco perli! Ok, stoppiamo, poi torniamo indietro con il video e andiamo a collegare la presa USB della Webcam. Già dall'inizio vi posso garantire che è notevole la differenza. Ehi c***o, guidami a ponte di legno, perfetto, a ponte di legno, a poco belli! Ok, stoppiamo. Che ne pensate? Devo dire che sono rimasto veramente colpito per la qualità audio di questa webcam. Allora, visto che abbiamo testato il video, abbiamo testato l'audio, andiamo a testare anche i microfoni. Per fare ciò, utilizzo Filmora11, il mio programma di grafica per elaborare i video che poi pubblico su YouTube. Quindi vado a registrare con i microfoni della Webcam un audio, per vedere poi come si sente. Ovviamente qui dobbiamo impostare su dispositivo la Webcam, i microfoni della Webcam, come ingresso audio. E andiamo a registrare. Io sono a distanza all'incirca di una metrata. Prova microfono Webcam, prova microfono Webcam, 1, 2, 3, prova Webcam, per poter effettuare una videoconferenza. Come si sente? Come si sente? 1, 2, 3, prova microfono di questa Webcam. Stoppiamo. Ok. E adesso andiamo a vedere come si sente l'audio. E' una metrata, eh. Prova microfono Webcam, prova microfono Webcam, 1, 2, 3, prova Webcam, per poter effettuare una videoconferenza. Come si sente? Come si sente? 1, 2, 3, prova microfono di questa Webcam. Si sente abbastanza bene, non si sente un rumore di fondo, non si sente, non si sente, ovviamente si sente l'eco della camera, perché sono chiuso nella mia cameretta. Come vi ho detto all'inizio, volevo provare anche questa Webcam su un tablet. E una volta collegato la Webcam alla presa USB del tablet, si può utilizzare questa Webcam. Vi faccio vedere. Basta andare sull'applicazione REC DVR e, vedete, funziona la telecamera, quindi possiamo utilizzarla anche volendo su un tablet. Eccola. Bene, amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Questa Webcam della IMIT C980 Pro mi ha convinto, soprattutto per quanto riguarda gli altoparlanti frontali, i due altoparlanti frontali che si sentono veramente bene. Mi ha convinto per quanto riguarda i quattro microfoni posti superiormente alla stessa. Mi ha convinto, anche se non in maniera proprio entusiasmante, la qualità video. Poiché registra ad una qualità di 1080p a 30 fps, quindi 30 fotogrammi al secondo. Diciamo che la registrazione video è in linea con il prodotto, ma non è una delle milioni, sicuramente. Mi ha convinto, invece, per quanto riguarda lo snodo di questa Webcam e il fatto che ha una vite fotografica per poter utilizzare la stessa con un treppiedi e utilizzarla come vogliamo, senza andarla a mettere direttamente sul monaco, vedete? Secondo me è molto interessante questa opzione. Mi ha convinto il fatto che questa Webcam può essere collegata e rilevata su qualsiasi dispositivo che l'ho potuto testare. PC portatile, tablet, quindi qualsiasi fonte abbia un'entrata USB, questa viene rilevata e si può utilizzare. Sinceramente non ho riscontrato delle vere pecche, anche perché l'installazione è molto semplice, come avete visto, basta collegare il cavetto e il PC va a riconoscere immediatamente la Webcam. L'unica cosa, forse non in linea con il prodotto, è il prezzo, poiché non è una Webcam economica. Costa di circa dalle 80 alle 110 euro, dipende dove si acquista. Vi lascio ugualmente i link nella descrizione del video per andarvi a vedere sia le caratteristiche del prodotto e sia dove conviene più acquistarlo, se su Amazon o su AliExpress. Se la recensione vi è piaciuta, lasciate come al solito un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto attivate la campanellina qua sopra in modo che sarete avvisati quando pubblicherò nuovi contenuti. Ciao belli, alla prossima, statevi bene! video registrato con Webcam Imit C980 Pro a 1080p per 30 fps. Buone feste a tutti voi e un sereno anno nuovo. Da Francesco, bacioni a tutti!